. Visita l'obitorio per salutare sua figlia e scoprire che era viva. Il caso di questa madre ha causato shock nel suo paese, in Argentina, e in altre parti del mondo, Annalicon con accento acuto ha, 30 anni, è andata al pronto soccorso dello ospedale di Perrando nella città di Sciaco quando era incinta di sei mesi. Non vedeva l'ora che arrivasse la sua quinta figlia Luz Milagros. Ad Annalicon con accento acuto era stata diagnosticata una placenta previa occlusiva totale, il bambino proveniva dalla coda, quindi in questo caso si raccomandava, secondo il protocollo medico, di essere nata con un taglio cesare. In un'ecografia avvisarono che non sentivano il battito del cuore del bambino e portarono alla luce la sala parto. Un'infermiera ha chiesto quanti figli aveva e quando ha saputo di averne quattro ha risposto, beh, ne hai già molti. Uno in più, uno in meno. Sebbene la cosa raccomandata fosse un taglio cesareo, la ragazza è finalmente nata con un parto estenuante quattro giorni dopo che Annalicon con accento acuto è entrato nel pronto soccorso. Hanno fatto tutto male fin dall'inizio. Mi hanno toccato in diverse occasioni, anche se ho insistito che guardassero la mia storia medica e non lo facessero. In uno dei tocchi ho sentito che la placenta era rotta, ho avvisato il medico e lei ha detto che aveva torto, che mi aveva fatto la pipì. Come potrei sbagliarmi? Sapevo che cosa era rompere le acque, avevo già quattro figli, ha detto la madre. Uno dei dottori disse, lascialo espellere da solo. Ero terribilmente stanco, stavo vomitando qualcosa di verde, volevo aiutare mia figlia a nascere, ma era impossibile per me, ha detto la madre. Mancavano appena due ore alla nascita di lui quando un'infermiera entrò nella stanza di Annalicon con accento acuta per chiederle se voleva conoscere la causa della morte del suo bambino. La madre era sotto shock, suo marito conosceva già la tragica notizia. L'uva fu dichiarata morta, rimase nella camera di raffreddamento dell'obitorio per più di dieci ore. Circa alle dieci di notte ho reagito e ho detto che volevo andare all'obitorio per dire addio a mia figlia, ha detto. Si trasferì con suo marito, suo fratello e sua cognata. Hanno estratto il cassetto da una camera di refrigerazione e l'hanno messo sul tavolo. Nessuno voleva vedere, mi hanno chiesto di non vederlo in modo da non conservare il ricordo di quell'immagine, ma volevo dire addio. Quando Annalicon con accento acuto entrò nel posto in mezzo a così tanto dolore da dire addio al suo bambino, scoprì di essere viva. La ragazza si inghiozzò per lo stupore di sua madre che si era rassegnata al peggio. Sono trascorsi sette anni da quel giorno che Annalicon con accento acuto non potrà mai dimenticare, ma il suo caso viene alla luce per sensibilizzare e chiedere giustizia. La piccola bara bianca era chiusa, il papà del bambino l'aprì e quando lo fece, tutti fecero un passo indietro. La ragazza era coperta di stoffa, la madre vide la sua manina e la tenne stretta. Ho notato che il suo corpo era viola e si era formata labrina. Quando scoperto il suo viso, mi stava guardando. I suoi occhi erano luminosi e piangeva, ha detto Annalicon con accento acuto. Pensava di avere un'allucinazione, ma si avvicinò e lui stava allungando. Quindi ha iniziato a urlare chiedendo perché si stava muovendo, il bambino ha iniziato a singhiozzare. Sono caduto in ginocchio a terra, non ci potevo credere, ha detto Annalicon con accento acuto. Suo fratello teneva il bambino tra le sue braccia, quando piangeva, ripeteva, vivrai piccola, calma vivrai. I dottori non avevano spiegazioni, la misero in gravi condizioni con un respiratore artificiale. I genitori di Luz avevano già ricevuto il certificato di morte, quindi ne hanno rilasciato uno alla nascita, ma con dati falsi. La madre lo notò e non accettò il documento. Il padre del bambino è stato rubato la sua motocicletta dove ha conservato il certificato di morte originale, ma per fortuna avevano una copia della copia nel cimitero dove stavano gestendo le procedure di sepoltura. Otto giorni dopo essere entrati a Luz in terapia intensiva, ha subito un arresto cardiaco. Mi hanno chiamato per vedere come la rianimavano, immagina di doverlo vedere, disse la madre. La zia Diana Licon con accento acuto A, che vive a Rosario, ha deciso di inviare un'e-mail a un canale televisivo per discutere del caso. Poco dopo un gruppo di giornalisti fu radunato fuori dall'ospedale. Nei media hanno fatto ecco a quello che è successo, parlando della negligenza del centro sanitario. Luz sopravvisse ad un altro arresto cardiaco e fu trasferito all'ospedale italiano di Buenos Aires. Ci hanno detto che solo il 10% del suo cervello ha funzionato e che in una riunione medica hanno deciso che le avrebbero dato solo cure palliative per non attaccarla ulteriormente, ha detto Anna Licon con accento acuto. Si rifiutò di arrendersi, smettendo di dare da mangiare a sua figlia e di darle cure, vide la sua evoluzione. Quindi in ospedale hanno risposto alla sua richiesta e gli hanno dato un tubo gastrico per nutrirsi. Inoltre, hanno eseguito una tracheostomia. Luz è stata dimessa dall'ospedale, dipendeva dall'energia elettrica per rimanere in vita. Durante una tempesta il servizio fu sospeso e sua madre dovette respirare bocca a bocca. Un mese dopo che Luz era a casa, il suo matrimonio finì, suo marito se ne andò. Era presente la solidarietà di molte persone di Buenos Aires, che hanno inviato ad Anna Licon con accento acuto i tubi per tracheostomia e altre forniture a cui non poteva accedere. Il governatore la fece andare nel suo ufficio solo per fare una foto con lei e il suo bambino, sopravvissuti in condizioni deplorevoli e con un aiuto molto scarso. Anna Licon con accento acuto vendette i biglietti della lotteria, chiese aiuto finanziario e quando lungo un p. 14 mesi, viaggiò nella capitale del paese per elaborare i suoi passaporti nella speranza di lasciare l'Argentina per trovare un trattamento che migliorasse la sua qualità della vita. Anna Licon con accento acuto iniziò una relazione amorosa con uno dei dottori del servizio domiciliare che andò a casa sua per frequentare Luz, viaggiò con lei e i suoi cinque figli. A loro ritorno si fermarono a Rosario per visitare la sorella di Anna Licon con accento acuto a cui era stato diagnosticato un cancro. Lì il bambino ha contratto un'infezione generalizzata e si è decomposto. È stata portata d'urgenza in ospedale. Ho sentito che questa volta non avrei fatto progressi. Mi hanno detto che stava lentamente svanendo. Sono andato a trovarla e le ho detto, beh, mamma, se vuoi continuare, la mamma è qui, se sei già stanca e vuoi andartene, vai piano. Dopo aver detto ciò, la macchina sembrava nei film. Luz è deceduta il 23 giugno 2013. Sua madre l'ha vestita e l'ha tenuta tra le sue braccia per portarla all'obitorio. Anna Licon con accento acuto a, sua madre e il suo ex marito hanno intentato una causa civile per danni e danni morali per negligenza nei confronti dello stato provinciale del Shaco e dei due medici che sono intervenuti. Giuseppe Victorino Acua, un avvocato di famiglia, ha dichiarato di aver richiesto un risarcimento di 15,2 milioni di pesos, l'equivalente di 300.000 euro. La madre devastata ha dovuto soffrire il dolore di perdere il suo bambino per sempre dopo essere stata vittima di un caso così grave di abbandono. Inoltre, a sua madre è stato diagnosticato un cancro alla gola e ha perso le sue corde vocali. Suo fratello, quello che l'ha accompagnata all'obitorio quel fatidico giorno, ha perso la memoria a causa di un incidente in moto. La mia vita non è mai stata più la stessa, ha detto Anna Licon con accento acuto a. Sopravvivi sul cibo che prepari a vendere. Riconosci che Luz è venuta al mondo con una missione. All'interno di tutto ciò che è brutto, c'è sempre un miracolo. Una volta un ragazzo mi disse che intendeva porre fine alla sua vita e quando vide come mia figlia avesse lottato per vivere, cambiò idea. Non so cosa ne sia stato di lui, ma questo mi ha consolato. La storia di questa madre non è stata dimenticata, merita di essere condivisa per chiedere giustizia e combattere atti di abbandono e violenza come quello che ha subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.